Rieccoci su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio e Notizia che apriamo parlando di Cronaca e partendo da Catania dove la polizia ha tratto in arresto e condotto in carcere un pregiudicato che aveva sparato al proprietario di casa che voleva sfrattarlo. Vediamo il servizio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti del pregiudicato Giuseppe Tireni in quanto gravemente indiziato dei reati di tentato duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi nonché di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola. Il provvedimento è stato emesso all'esito di indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla squadra mobile avviate lo scorso 16 novembre a seguito di una segnalazione al numero unico d'emergenza dell'arrivo presso il pronto soccorso di un locale ospedale di un soggetto attinto da colpi di arma da fuoco. Gli agenti, grazie alle indagini, hanno compreso l'ambito in cui era maturato l'evento delittuoso riconducibili a pregresse diatribe tra il proprietario di un terreno con annesso fabbricato ubicato proprio in corrispondenza del luogo del ferimento in agro di Mister Bianco e l'attuale conduttore ossia l'odierno indagato Giuseppe Tireni. L'azione delittuosa è maturata infatti per asserite inadempienze di questi sia in ordine al pagamento del canone di locazione sia in ordine alle spese per i consumi e allo scopo di porre fine a tali condotte essendosi il proprietario determinato con l'ausilio di altre due persone a tagliare il lucchetto con cui il cancello dell'abitazione era assicurato e ad apporne uno in sostituzione in modo da ritornare in possesso dei locali. Tale condotta ha innescato la reazione violenta di Tireni soggetto già gravato da condanne per i reati di evasione nonché in materia di armi stupefacenti e contro la persona il quale a sua volta venuto a conoscenza di quello che stava accadendo ovvero del fatto che la casa dove fino a quel momento aveva abitato stava per essere data in locazione a due soggetti. Non avrebbe quindi esitato a presentarsi armato di pistola e a sparare prima ai danni del ferito poi all'indirizzo dell'auto al cui interno si era rifugiato il soggetto che avrebbe dovuto prendere in affitto la casa. Espletate le formalità di rito l'indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza. A Mazzara del Vallo invece nel Trapanese i carabinieri durante i servizi svolti nell'ultimo fine settimana hanno denunciato nove persone per vari reati. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo col supporto dei colleghi del dodicesimo reggimento Sicilia hanno denunciato nel fine settimana appena trascorso nove soggetti per svariati reati. Un castel vetranese classe 2002 è stato deferito per spaccio di stupefacenti in quanto è stato sorpreso in possesso di alcuni involucri contenenti ascisce e marijuana pronti per essere ceduti. Estesa la perquisizione presso il suo domicilio è stata rinvenuta altra droga già suddivisa in dosi tutta sequestrata per un peso complessivo di circa 40 grammi. Cinque soggetti, tre uomini e due donne, sono stati invece deferiti per furto di energia elettrica in quanto a seguito di un controllo effettuato con la presenza di tecnici specializzati è stato appurato che gli stessi avevano creato un allaccio diretto e abusivo alla rete pubblica. Due di loro sono stati denunciati anche per occupazione abusiva di un appartamento popolare. Due mazzaresi con precedenti di polizia sono stati denunciati per sottrazione o danneggiamento di cose poste sotto sequestro in quanto gli stessi hanno denunciato il furto di un ciclomotore che presumibilmente hanno venduto ma che era stato posto sotto sequestro nel 2019. Infine un tunisino residente a Salemi è stato denunciato per porto illegale di armi odoggetti atti a offendere in quanto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere dietato. Ed ora una notizia di cronaca da Palermo. Gli agenti penitenziari hanno trovato un microcellulare in possesso di un detenuto che lo stava utilizzando nella propria cella nel carcere Pagliarelli. Il detenuto, fanno sapere dalla polizia penitenziaria, ha dichiarato di essere consapevole di aver commesso un reato ma che voleva sentire la sua famiglia. Resta ora da capire come sia arrivato il cellulare nella cella o nascosto nei pacchi che ricevono i detenuti dai propri familiari oppure attraverso un drone. Ed ora invece cambiamo argomento. Parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza di Noto che ha portato all'arresto ai domiciliari con l'accusa di corruzione il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa. Vediamo il servizio. Il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, Michelangelo Trebastoni, 60 anni, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione, concussione e rivelazione di segreto d'ufficio. Ai domiciliari anche una persona di sua fiducia, di 54 anni, che fungeva da intermediario tra l'Ispettorato e le aziende. La Guardia di Finanza ha eseguito le ordinanze del GIP. Notificati anche tre provvedimenti interdittivi della durata di un anno nei confronti di due imprenditori nel settore della vigilanza privata, entrambi siracusani, e di un consulente del lavoro, anche lui di Siracusa, i quali avrebbero assicurato l'assunzione del personale segnalato dal dirigente dell'Ispettorato. I militari delle Fiamme Gialle della Compagnia di Noto avrebbero scoperto episodi di corruzione, concussione e rivelazione di segreto d'ufficio di dirigenti e funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa, i quali, in cambio di utilità di varia natura, avrebbero condizionato la pianificazione o l'esito delle attività ispettive in favore di diversi soggetti economici. Torniamo a Catania per parlare dell'arresto di un 49enne violento che maltrattava la propria moglie e le figlie minori. Ovviamente è stato tratto in arresto. La Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito delle indagini a carico di un 49enne di Catania, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti della moglie e delle figlie, ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico, emessa dal GIP del Tribunale Etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Catania, Piazza Verga. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo che si sarebbe reso responsabile nei confronti della moglie di reiterati episodi di violenza verbale e psicologica degenerati spesso in aggressioni fisiche. La relazione coniugale si sarebbe ridotta per la donna a un controllo asfissiante da parte del marito su ogni aspetto della sua vita privata. Alla donna sarebbe stato impedito di intrattenere qualsiasi rapporto di amicizia fino a farla sentire seppellita in casa e determinandola a lasciarlo quando l'atteggiamento aggressivo si sarebbe esteso anche nei confronti delle figlie minori. Tra i due coniugi sarebbe intervenuta anche una breve riconciliazione tra il 2018 e il 2019, incoraggiata da una promessa di cambiamento da parte del marito, rivelatasi del tutto vana a causa del riproporsi dell'indole violenta del 49enne, aggravata dalla costrizione alla consumazione di rapporti sessuali cui la donna sarebbe stata costretta a soccombere per tutelare la serenità delle figlie minori tenute all'oscuro di tutto. Frequenti sarebbero state anche le denigrazioni indirizzate da parte del 49enne nei confronti della moglie alla presenza delle figlie con parole del tipo strega, cagna, zingara, donna con la D minuscola, seguite da episodi di violenza fisica consumati tra le mura domestiche e mai denunciati dalla donna. Tra le aggressioni patite in una circostanza la vittima sarebbe stata svegliata improvvisamente di notte dal marito che stringendole le mani al collo avrebbe poi minacciato di ucciderla. Durante la successiva e definitiva separazione tra i due l'uomo avrebbe accusato la donna di essere la causa della distruzione della loro famiglia e avrebbe minacciato le figlie che tramite sue conoscenze allo scopo di sottrarle alla madre le avrebbe fatte finire in una casa famiglia. Nello stesso periodo in preda a scatti d'ira l'uomo avrebbe tempestato le ex moglie e le figlie di messaggi vocali a mezzo dei quali avrebbe proferito gravissime minacce avvisandole di stare tutte attente, le figlie perché avrebbero avuto conseguenze negative per via della madre e quest'ultima perché avrebbe fatto una brutta fine. A Mineo nella Catanese i carabinieri hanno invece tratto in arresto un pusher, tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palagonia hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 36enne di Gran Michele. Al riguardo nel corso di un servizio volto al contrasto dell'illegalità diffusa nel territorio del comune di Mineo non è sfuggito all'attenzione dei militari dell'arma il comportamento di un motociclista lungo la statale 385 che alla vista della pattuglia ha accelerato bruscamente tentando di fuggire. E' scattato quindi l'inseguimento da parte dell'equipaggio della gazzella che nonostante l'elevata velocità sviluppata dal motociclo di grossa cilindrata è riuscito a fermare il centauro sottoponendolo immediatamente a perquisizione. Nel frangente i carabinieri hanno rinvenuto nella tasca del giubbotto dell'uomo un involucro in cellofan termosaldato contenente 5 grammi di cocaina. I militari hanno pertanto posto il soggetto a disposizione dell'autorità giudiziaria segnalando contestualmente la violazione alla locale prefettura per i conseguenti provvedimenti in merito alla sospensione della patente di guida e al sequestro della motocicletta. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno eseguito un aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 47enne del luogo già gravato dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa che ha ritenuto fondata la richiesta avanzata dai carabinieri sulla base delle numerose denunce in stato di libertà che nel tempo i militari dell'arma avevano contestato all'uomo. Il soggetto dopo l'arresto è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso andiamo a vedere la situazione a Stromboli perché prosegue in questo caso l'emissione di lava dal cratere nord del vulcano lo stesso dal quale ieri si sono generati diversi flussi piroclastici il più consistente dei quali ha generato un'onda di tsunami alta un metro e mezzo. Il flusso ladico sta percorrendo il camminamento naturale della Sciara raggiungendo la linea di costa e sembra essere ben alimentato. Sull'isola intanto le scuole stamane sono rimaste chiuse. Il sindaco di Lipari dopo un briefing con i centri di competenza che monitorano l'odostromboli e con i dipartimenti di protezione civile nazionale e regionale deciderà se fermare momentaneamente le escursioni sul vulcano. Una nuova scossa di terremoto invece avvenuta in Sicilia nella zona del Tirreno Meridionale. Il sisma di magnitudo 3.1 rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 6.49 di questa mattina è stato registrato a pochi chilometri di distanza dalle eolie a nord dell'isola di Stromboli. Andiamo adesso a riascoltare le parole del tecnico del Palermo Eugenio Corini. Parliamo quindi di calcio. Mister Corini che ha parlato dopo la vittoria per 1 a 0 sul campo del Benevento. E' vero che i primi 15-20 minuti il Benevento ha spinto e abbiamo retto bene perché alla fine verso la porta abbiamo ricevuto pochissimi tiri, forse uno a fine gara. Dopo nella seconda parte del primo tempo secondo me abbiamo palleggiato meglio e siamo stati poco incisivi nei 25 metri finali dove secondo me potenzialmente abbiamo creato 3-4 situazioni veramente pericolose. Dunque il primo tempo è finito in equilibrio a parte la conclusione di Acampora non ricordo niente di particolare. Il secondo tempo è partito su questa falsariga, abbiamo fatto un bel gore conquistando palla alta, andando a giocare con Matteo dove è riuscito a realizzare. Secondo me la partita poi si è sviluppata in questa situazione, il Benevento ha provato a spingere, noi abbiamo difeso oggettivamente molto bene. Penso che l'unica occasione vera e concreta è stata quella di Improta nella parte finale. Noi già prima potevamo andare sul doppio vantaggio e secondo me alla fine l'abbiamo anche legittimata con una grande prestazione di squadra, compatta, coesa, con una squadra oggettivamente forte nelle individualità e anche nella proposta di gioco che fanno e dunque siamo molto contenti di questa vittoria. Io penso che questa settima partita sia figlia delle sei precedenti posterni, poi il risultato condiziona a qualsiasi giudizio, dunque si tende quando si perde a vedere le cose negative. Io penso che anche a Cosenza e col Venezia meritavamo un risultato diverso, che la squadra ha combattuto, non ha mai lesinato sforzi. Non ti inventi una partita così in sei giorni, vuol dire che l'hai costruita, l'abbiamo messo in campo e questa volta il risultato ci premia. L'abbiamo lavorato bene in non possesso, secondo me anche in possesso alla prima e alla seconda lina la saltavamo bene, era nell'ultimo terzo di campo che potevamo secondo me ottimizzare meglio perché anche col palleggio tante volte abbiamo controllato bene il gioco, siamo riusciti poco a andare sulle punte nel primo tempo che ci potevano poi far diventare veloci e più incisivi e nel secondo tempo secondo me l'abbiamo fatto meglio. Oggi secondo me in una rotazione anche normale, visto che però secondo me nell'ultima partita era un po' stanco, volevo dare più palleggio con Damiani per aiutare l'azione a riuscire in maniera più pulita, ha fatto una partita importante sia in possesso ma anche in non possesso, ha lavorato molto bene e sono contento per lui perché è un ragazzo che merita. Ci fermiamo qui, non ci sono aggiornamenti ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti.